C'è una denuncia del Movimento 5 Stelle, la zona di Malagrotta nella capitale è come la terra dei fuochi. Il deputato 5 Stelle Stefano Vineroli, che ha diffuso anche un video nel quale vengono mostrati, come vedete, rifiuti ospedalieri che galleggiano sull'acqua invadendo le coltivazioni, smentisce l'AMA, la municipalizzata che si occupa nella capitale della raccolta dei rifiuti, mai dispersi rifiuti sanitari di Malagrotta. Questa è la replica dell'AMA. Questa è la replica del Movimento 5 Stelle, che si occupa nella capitale della raccolta dei rifiuti,